Impianto sportivo le sorgenti, nuovissimo manto erboso all'avanguardia, erba sintetica con memoria elastica e questi ragazzi veramente si stanno divertendo moltissimo. Questa partita che avete appena visto sono le immagini di una delle partite del 25 aprile, il torneo organizzato dall'UISP provinciale di Livorno e della Lega Calcio UISP con noi due rappresentanti di queste belle realtà, si stanno divertendo molto e questo a noi piace. Iniziamo dalla mia destra, l'ospite rappresentante della squadra, la 180esimo regimento paracadutisti Folgore si chiama Passaretti Giovanni. Allora, per essere precisi, come sempre, questa è stata una partita per voi, che significato ha avuto? Avete perso 7 a 4 sul campo però avete fatto veramente una bella partita. Ci siamo divertiti, questo è l'importante, è un modo per stare insieme tra di noi e con persone della realtà di Livorno, così passiamo una bella serata, inizia a far caldo e ci divertiamo tutti insieme, questo è l'importante. A parte le vittorie ci saranno altre partite e daremo filo da torcere. Allora, voi a parte i progetti di passare il turno, eccetera, ma voi di solito giocate a calcetto insieme? No, raramente, raramente ci vediamo e giochiamo, a volte insieme, a volte con altri, non è facile organizzarsi. Quindi per voi è stata una ghiotta occasione per fare attività sportiva? Attività la facciamo, quella tutti i giorni, non manca mai, calcetto è un'altra cosa. Mentalmente è più rilassante, insomma? Ma sì, ci serve anche per scaricare un po' di più sicuramente il lavoro e tante altre cose. Bene, complimenti da parte nostra e grazie del tuo intervento. Allora, veniamo Pasquale Lamberti, conosciuto a Livorno, insomma, non solo come personaggio della città, ma anche come sportivo. E Goliador? Sì, Goliador, insomma, a questi livelli, complimenti all'Uispe per questo torneo, perché è un torneo molto importante per la città. E' ben organizzato, un bellissimo impianto, io era la prima volta che ci gioco, è un campo davvero, una struttura veramente all'altezza. Sono rimasto veramente molto impressionato. Ecco, questo insomma, senza stare, perché non è stato pubblicizzato a dovere, questo impianto comunque non importa. Ah no, quello che conta è che vedere il sorriso, diciamo, sul viso dei giocatori. Ma assolutamente, perché io finora come Kralasa abbiamo giocato contro le forze armate e contro la polizia penitenziaria. E abbiamo trovato delle squadre di persone e di ragazzi molto per bene. È stato divertente perché corrono come pazze, sono fortissimi fisicamente, però sono molto corretti. Quando c'è correttezza, poi alla fine ci si diverte tutti. L'ambiente è sano? Ad oggi sì, ma fondamentalmente il calcio è sano. Il calcio è sano perché generalmente le persone vengono per divertirsi. Poi sono le persone che un pochino quando vengono a campi esasperati sbagliano proprio l'impostazione e che poi rovinano le situazioni. Comunque di base, fino ad oggi, questo torneo è veramente ben organizzato. Bene, Pasquale, grazie. Sono contentissimo di vederti così soddisfatto perché ci impegniamo tantissimo per organizzare. Non è facile poi? No, assolutamente. Capisco che non sia facile, però c'è veramente tanto entusiasmo. E questo lo si vede anche dalla struttura che c'è intorno, non solo da te, anche da Luis, dal Presidente e tutti gli altri. Dagli arbitri e comunque regalate, non solo Luis, regalate comunque ai Livornesi la possibilità di poter giocare a pallone perché noi siamo calciofili a Livorno. Bene, questo lo sapevamo. Grazie Lamberti. Allora noi torniamo in campo per poi ritornare qui in sala stampa dell'impianto sportivo delle Sorgenti. Grazie a tutti.